Oggi abbiamo celebrato qui alla Camera la quarta edizione del Game Forum. Che cos'è il Game Forum? È una giornata annuale di riflessione che da appunto 4 anni organizzo insieme l'associazione di categoria e quest'anno abbiamo voluto incentrarlo sull'agenda digitale La Via Italiana al Videogioco. Abbiamo presentato una ricerca inedita della Bocconi di Milano che dice quali e quante sono le aziende italiane attive nell'ambito dei videogiochi e quali prospettive di lavoro e di posti solidi, cioè destinati al futuro, destinati ad avere una continuità nel tempo, si potrebbero produrre se le si supportasse in modo adeguato. Per questo nella proposta di legge sull'agenda digitale abbiamo voluto inserire il tax shelter e il tax credit, cioè delle facilitazioni per chi investe o per chi reinveste i propri utili nelle imprese che fanno videogiochi analogamente a quello che succede per il cinema. Siamo in attesa del decreto del governo e speriamo e confidiamo che queste nostre misure trovino accoglienza nel decreto.